capitolo 39 comprendi e sfrutta la sostituzione di attributo il cervello umano è qualcosa di formidabile e più mi documento sulla sua natura più rimango a bocca aperta per esempio sapevi che secondo paul rebert professore di psicologia alla northwestern university il cervello umano è in grado di immagazzinare circa 2 milioni 500 mila gigabyte per intenderci è l'equivalente di 300 anni di programmi tv il nostro cervello ha un ruolo così importante nelle nostre vite al punto da consumare il 20 per cento delle nostre energie totali e dell'ossigeno che respiriamo è in grado di produrre tra i 12 e di 25 watt di elettricità e ogni secondo nel nostro cervello hanno luogo circa 100 mila reazioni chimiche differenti anche dal punto di vista di produzione i numeri sono strabilianti nell'intero corso di una vita media gli scienziati stimano che il cervello umano moderno immagazzini fino a un quadrilione di elementi di informazione per visualizzare bene questo dato un quadrilione si scrive con cinque serie di tre zeri un quadrilione produciamo ogni giorno tra i 50.000 e di 70.000 pensieri e nota dolente il 60 70 per cento di questi pensieri sono negativi rileggi il capitolo 37 alla luce di questo dato questo piccolo recap statistico dovrebbe darci un'idea del livello di attività che c'è all'interno della nostra scatola cranica il nostro cervello è una macchina costruita per reggere ritmi incredibili ma allo stesso tempo anche per salvaguardare il più possibile se stessa il nostro corpo e la nostra sanità mentale è stimato che l'adulto medio prenda ogni giorno circa 35.000 decisioni i ricercatori della cornell university ad esempio stimano che ogni giorno prendiamo 226,7 decisioni solo in merito al cibo fai tu ogni decisione ovviamente comporta alcune conseguenze positive e negative e man mano che il livello di responsabilità di una persona aumenta aumenta anche la moltitudine di scelte che deve prendere è esattamente il motivo per cui chi è in posizioni di comando generalmente viene pagato di più e allo stesso tempo si vede riconosciuto più prestigio non è solo una questione di gerarchia ma è anche perché l'abilità di prendere decisioni giuste è obiettivamente una merce rara sul mercato soprattutto se si considerano decisioni complesse ovvero decisioni che implicano più variabili ora arriviamo al dunque e focalizziamoci su ciò che interessa a noi secondo science daily il 95 per cento delle decisioni che una persona media prende durante la sua giornata viene preso in maniera inconscia e questo significa sostanzialmente che per il 95 per cento del nostro tempo viaggiamo con il pilota automatico ma c'è dell'altro nell'ultima decade l'attention span medio ovvero la capacità di attenzione media dell'essere umano è diminuita di ben 12 minuti ora se su 35.000 decisioni al giorno il 95 per cento viene preso in maniera subconscia significa che quelle prese in maniera conscia sono meno di 2000 circa 1750 sommato al dato sulla capacità di attenzione ciò significa che l'uomo medio dedica sempre meno tempo a queste decisioni mentre invece compie in modalità sempre più autopilot le restanti 33.000 la naturale conseguenza di questo ragionamento è che la nostra mente è letteralmente una macchina programmata per evitarci qualsiasi decisione possibile facendoci risparmiare così tempo energie ed attività mentale per questo il più delle volte il nostro cervello decide seguendo questi modelli 1 impulsività sfrutta la prima opzione che ti viene data ed è fatta 2 conformità sceglie l'opzione più piacevole comoda e popolare per quanto riguarda le persone colpite 3 delega non prende la decisione da solo ma la delega a qualcuno che in qualche modo sia fidato o riconosciuto come autorevole 4 fuga o astensione evita o ignora le decisioni nel tentativo di evitare la responsabilità per il loro impatto 5 bilanciamento pesa i fattori coinvolti li studia li confronta e quindi utilizza queste informazioni per prendere la decisione migliore al momento 6 prioritizzazione impiega più energia pensiero e sforzo in quelle decisioni che avranno il maggiore impatto queste strategie decisionali non lavorano a compartimenti stagni ma il nostro cervello le mischia in combinazioni differenti per far fronte all'enorme volume di decisioni che devono essere prese se poi la decisione diventa una decisione complessa normalmente le persone creano inconsciamente un paragone molto più semplificato sulla base del quale basano la loro attività decisionale è il motivo per cui ogni analisi multilivello viene meno nella mente delle persone medie ed è allo stesso tempo il motivo per cui il nostro cervello tende a costruire un'immagine semplificata o addirittura polarizzata che lo aiuti a risparmiare energie quando affronta una decisione complessa a questo punto entra in gioco la sostituzione di attributo un concetto formidabile nella pianificazione di un business e nella strutturazione dell'attività di marketing per sostituzione di attributo si intende sostanzialmente quel meccanismo per cui una serie complessa di variabili viene erroneamente riassunta e ridotta ad un unico attributo in modo tale che il nostro cervello riesca a ricordare comprendere e decidere in maniera più veloce facciamo un esempio concreto nel 2012 insieme ad altri tre ragazzi ho lanciato un social network internazionale dedicato a brand promoter e locali l'obiettivo era quello di mettere in contatto queste tre realtà che normalmente collaborano per l'organizzazione di eventi si chiama live trigger.com ed è un'iniziativa che ha anche avuto un discreto successo live trigger non è semplice da spiegare anzi è un prodotto complesso in cui entrano in gioco un sacco di variabili ed ovviamente questo poco si adatta alla velocità della comunicazione online dopo un discreto lancio iniziale venne intervistato da vari media nazionali perché era abbastanza anomalo che una realtà italiana ottenesse così tanto successo anche con utenti internazionali quando uscì l'intervista sul fatto quotidiano il giornalista parlò di live trigger come del facebook dei musicisti per quanto facebook sia un nome non un attributo vero e proprio questo è esattamente ciò che si intende con sostituzione di attributo si prende qualcosa di nuovo o di complesso e lo si accosta per ottenere un maggiore impatto a livello di marketing a qualcosa di più semplice e di già noto come avrai intuito sfruttare al meglio la sostituzione di attributo è un modo intelligente per hackerare il sistema decisionale delle persone spingendolo subconsciamente verso il nostro risultato desiderato è utile per spiegare concetti elaborati soprattutto in fase di front end magari polarizzando anche un po il discorso anche se poi in realtà in fase di back end questi concetti elaborati saranno espansi ed affrontati nel dettaglio capitolo 40 diventa uno sciamano e usa ogni parte del maiale nel capitolo 28 abbiamo affrontato l'importanza di una comunicazione basata sulle storie mentre nel capitolo 20 abbiamo invece affrontato l'importanza di ottenere referenze e raccomandazioni in questo capitolo ci dedicheremo alla comprensione del nostro ruolo in questa storia partiamo da un concetto principale escludendo il caso delle commodity ma focalizzandoci solo su brand uno dei maggiori motivi che spingono le persone a pagare e quindi uno dei motivi per cui letteralmente i soldi si muovono è la delega di responsabilità in un processo siamo abituati a pensare che le persone comprano prodotti o acquistano servizi perché vogliono ottenere un risultato promesso ed in un certo senso c'è un fondo di verità in questo assunto tuttavia nel mondo di oggi esiste talmente tanta informazione gratuita e facilmente accessibile in ogni campo che se il punto fosse solo ottenere il risultato il commercio mondiale sarebbe letteralmente in macerie invece la situazione non è affatto questa quando una persona compra un prodotto per dimagrire assume un consulente per la gestione di un determinato fenomeno o acquista un servizio di qualsiasi tipo quello che sta facendo è affidarsi a qualcuno o qualcosa per ottenere un risultato promesso in cambio di un controvalore economico se stiamo comprando un brand di abbigliamento o un sofisticato programma di investimento finanziario la sostanza non cambia ci stiamo mettendo nelle mani di un esperto pagando per ottenere un risultato normalmente migliore e maggiore di quanto saremmo stati in grado di ottenere noi da soli in tempi normalmente molto più brevi questa persona questo brand o questo prodotto diventano per noi un vero e proprio stregone a cui ci affidiamo e ci affidiamo a lui per lo stesso motivo per cui i popoli del passato si affidavano agli sciamani loro avevano poteri che la persona comune non aveva e proprio per questo potevano aiutarle ad ottenere ciò di cui avevano bisogno nota bene non esiste business a cui questo concetto non si applichi ti fa male qualsiasi parte del corpo vai dallo specialista di quella pratica vuoi apparire più cool agli occhi dei tuoi pari o a te stesso acquisti prodotti firmati da un brand che sai eleverà la tua immagine vuoi ottenere risultati migliori rispetto a quelli attuali paghi un servizio offerto da chi è già conosciuto come esperto di quel ramo vuoi dimagrire senza esercizio fisico compri il prodotto che ti offre il risultato senza fare alcuno sforzo si tratta di una lista veramente infinita ma avrai già intuito dove voglio arrivare ciò che dobbiamo fare in questo caso sia che rappresentiamo un brand un prodotto o una persona in carne ed ossa personal brand è diventare lo sciamano a cui il nostro pubblico si rivolge come si ottiene questo risultato semplice costruendo e diffondendo la tua storia una buona storia è composta da diverse cose affrontate nei capitoli precedenti ed ora tenteremo di ricostruire il puzzle pezzo per pezzo prima di tutto la tua storia deve essere in linea e coerente con la tua vision e con la tua mission capitolo 33 il tuo ruolo o il ruolo percepito del tuo prodotto o del tuo brand altro non è che uno dei due poli visto nel capitolo sulla polarizzazione capitolo 37 ed il problema che vuoi risolvere con la tua mission diventa reale o ancor meglio personificato nel grande nemico da sconfiggere ovvero l'altro polo della situazione polarizzata descritta qualche capitolo fa in questo modo ciò che vendi diventa il vettore che permette al tuo cliente di ottenere la trasformazione voluta ovvero il gradino più alto della scala di cui abbiamo parlato nel capitolo 24 già solo riuscire a costruire una storia con questi piccoli passaggi chiave ti allontana dalla concezione di commodity posizionandoti come vero e proprio brand permettendoti di scollegare il tuo prodotto dal prezzo e di conseguenza alzare i margini come spiegato nel capitolo 38 gli effetti di essere una vera e propria leggenda vivente e operativa sono troppi per essere discussi tutti qui ma c'è ancora un punto da trattare prima di chiudere come si parte da zero il punto fondamentale da capire è che essendo la tua storia o quella del tuo brand hai tutto il diritto di raccontarla come vuoi no questo non è un invito a spacciare il falso per vero ma un invito ad utilizzare ogni parte del maiale ovvero qualsiasi elemento a tua disposizione per creare la tua leggenda o quella del tuo brand puoi utilizzare i risultati conseguiti meglio ancora se espressi in numeri e dimostrati in maniera plateale puoi utilizzare dei riconoscimenti di rango o di livello avendo cura di riconoscere cosa è funzionale a distinguerti dagli altri e cosa invece ti posiziona esattamente nello stesso calderone in cui stanno tutti gli altri il medico che espone la propria laurea nello studio non sta aggiungendo valore al proprio posizionamento viceversa il coach che rende pubblici i trofei ottenuti dai suoi atleti sotto la propria guida sta sfruttando in pieno i riconoscimenti di rango e di livello oppure ancora puoi utilizzare in maniera intelligente la sostituzione di attributo di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente affiancandoti ad un vip molto importante per il tuo mercato questo è da fare con estrema prudenza perché come dice ogni buona nonna che si rispetti una volta che ti hanno messo il marchio addosso non te lo levi più ma se sfruttata con intelligenza può essere una dinamica molto interessante un altro modo molto utile di costruire la propria leggenda e farla raccontare ad altri riuscire a trovare un modo per cui parlino bene di te o del rapporto che hanno avuto con te o con il tuo prodotto è una delle armi più efficaci che puoi dispiegare sul campo facciamo un esempio immaginiamo che entrambi vogliamo promuovere questo libro e immaginiamo che vogliamo consigliarlo ad un tuo amico c'è una differenza se questa promozione la faccio io su un mio libro o se la fai tu su questo libro si chiama edificazione di una terza persona e vale anche nei confronti di un prodotto o di un servizio ricordi il mio amico che vende detersivi il suo marketing è pieno di foto fatte dalle sue clienti nel momento in cui arriva il pacco con i detersivi ciò che esprimono quelle foto è semplice siamo in tante e tutte ci fidiamo di questo detersivo quello che invece avviene nella testa dei clienti potenziali invece se ci sono tante persone che si fidano di questo brand allora posso farlo anch'io sgravando la mia mente dal peso di questa decisione perché se così tante persone fanno una cosa allora deve essere necessariamente giusta in definitiva avere una storia e continuare a distribuirla e validarla attraverso un piano di marketing dovrebbe essere una tua priorità almeno quanto mettere in piedi un sistema che incentivi la produzione di referenze raccomandazioni e recensioni da parte dei tuoi clienti inoltre una storia ben costruita così come delle raccomandazioni di clienti soddisfatti non sono elementi che possono essere copiati dalla concorrenza ed anche per questo rappresentano due asset su cui iniziare a lavorare subito capitolo 41 identifica ragioni emozionali e razionali ma prediligi le prime un paio di capitoli fa nel capitolo 39 abbiamo ampiamente discusso di come mediamente il 95 per cento delle decisioni delle persone venga preso in maniera subconscia poco prima nel capitolo dedicato alle storie capitolo 24 abbiamo sottolineato l'importanza che ha l'abilità di saper innescare delle emozioni nella testa dei nostri prospect ai fini di posizionamento e di vendita quando non basta la sua decisione sul prezzo una persona acquista per un motivo che può rientrare solo in uno di questi due macro gruppi le ragioni razionali e le ragioni emozionali le motivazioni razionali sono motivazioni che nascono innanzitutto da un ragionamento che risponde alle nostre esigenze di logicità di sistematicità o di rigore scientifico di congruenza e funzionalità le motivazioni emozionali viceversa sono tutte quelle motivazioni che rispondono ad impulsi derivanti da un qualsiasi tipo di emozione scaturita in noi originata ed attivata in noi attraverso un procedimento mentale non razionale qualsiasi marketer con una discreta esperienza sul campo sa che fra queste due opzioni quella su cui conviene concentrarsi per ottenere un maggiore risultato è sicuramente la seconda ed è sempre stato uguale per comunicatore degno di nota nella storia dell'uomo da gesù cristo a yenin passando per lutero o marco aurelio ogni gigante della storia che abbia ottenuto un forte consenso in vita o a posteriori lo ha guadagnato facendo leva sulle ragioni emozionali e non su quelle razionali non a caso uno dei discorsi più famosi della storia si chiama i have a dream e non i have a list of facts nel 2003 la scienza ha dato fondamenta scientifiche a quello che i marketer avevano intuito in maniera spontanea o sperimentale nel suo libro how customers think essential insights into the mind of the market il professore di harvard gerald zoltman consacra finalmente questa posizione conferendogli valore scientifico il 95 per cento delle decisioni relative all'acquisto di un prodotto avviene in maniera subconscia e se avviene in maniera subconscia per definizione è un processo decisionale che viene avvertito solo vagamente a livello cosciente o razionale ora che le ragioni emozionali siano quelle che realmente motivano la decisione è sicuramente vero ma va anche detto che questo dato necessita di essere contestualizzato se può essere vero in queste proporzioni nel contesto di una decisione semplice ad esempio compiuta da un decisore grazie ad un'analisi semplice non è detto che sia lo stesso per decisioni più complesse decisioni ad esempio in cui sono presenti più variabili e di cui attori decisionali sono diversi ed addestrati a compiere scelte complesse in questo caso risulta evidente come avere piani di marketing che prendono in considerazione sia le motivazioni razionali che quelle emozionali sia la strategia più intelligente brutalmente come ho sentito spiegare da dave d in una conferenza è assolutamente necessario includere anche le motivazioni razionali nei nostri piani di marketing perché anche queste possono mettere un bel po di soldi sul tavolo e non è poi così furbo non accaparrarseli concordi il problema potrebbe porsi quando non si hanno le risorse personale tempo o denaro per affrontarle entrambe il consiglio generale in questo caso è focalizzarci all'inizio al 100 per cento solo su azioni di marketing che colpiscano la sfera delle motivazioni emozionali potremo quindi concentrarci sulle motivazioni razionali una volta ottenuta ed accumulata abbastanza liquidità da essere usciti dalla situazione di emergenza capitolo 42 offri sempre delle garanzie sproporzionate che il cliente potenziale debba percepire una sproporzione fra quanto lui guadagna se compra e quanto perde se non compra dovrebbe esserti ormai chiaro dovrebbe esserti chiaro anche che come spiegato nel capitolo sulla disproporzione cognitiva capitolo 27 il tuo prospect deve anche percepire un'altra disproporzione quella fra quanto guadagna lui e quanto perdi tu mi rendo conto che questo passaggio possa suonare forse un po troppo cinico ma dobbiamo fare pace con l'idea che certe persone si sentono emotivamente ok e quindi comprano solo quando si possono ritenere più intelligenti del venditore non dobbiamo arrabbiarci è semplicemente psicologia di base per alcune persone il fatto che l'avversario perda conta di più della vittoria in sé e se potessero scegliere fra vincere ma non far perdere l'avversario e non vincere ma far perdere l'avversario sceglierebbero di sicuro l'ipotesi in cui il nemico perde ora la buona notizia è che tu non stai giocando quella partita anzi non stai proprio giocando a quello sport la tua battaglia non è con quel singolo individuo il tuo match è solo con gli obiettivi che ti sei dato e se ti li sei dati bene quello di cui abbiamo discusso nella pagina precedente non dovrebbe minimamente surriscaldarti e quindi andiamo avanti ed iniziamo a parlare di garanzie se c'è una cosa che ho sempre sentito dire da qualsiasi esperto di vendita e per esperto intendo qualcuno che ha lavorato sul campo non un teorico è che in italia il livello di diffidenza è in generale molto alto non credo serva dimostrarlo l'italiano medio ne ha viste così tante che normalmente quando vede qualcosa che lo ammalia troppo pensa subito a dove sia la truffa proprio per questo motivo le garanzie nel nostro paese sono fondamentali ma chiariamo subito un punto lo sarebbero in ogni mercato non solo in italia questo perché la garanzia è uno strumento che aiuta ad invertire il rapporto di pesi nell'assunzione di rischio trasportandola dall'acquirente al venditore aiutando quindi allo stesso tempo ad aumentare la disproporzione cognitiva sbilanciandola tutta nei confronti del cliente esistono fondamentalmente tre tipologie di garanzie la garanzia semplice la garanzia doppia la garanzia tripla la garanzia semplice è una garanzia in cui al cliente viene offerta indietro l'intera somma di denaro corrisposta questa garanzia può essere a volte quella standard come quella che normalmente si ha nei 14 giorni successivi ad un acquisto online oppure può essere una garanzia più impattante come la classica garanzia 100 per cento money back no question asked con questa garanzia promettiamo al cliente di ridargli indietro i suoi soldi al 100 per cento senza fare nessuna domanda le uniche condizioni necessarie per ottenere questa garanzia sono semplicemente che il cliente la richieda formalmente e che restituisca il prodotto una garanzia più potente di questa è la cosiddetta garanzia doppia ovvero la garanzia che prevede la restituzione dei soldi e che il cliente tenga lo stesso il prodotto o che la possa richiedere quando il prodotto è terminato nel caso di alimenti o beni di consumo questa garanzia sbilancia la disproporzione cognitiva a favore dell'acquirente molto più di quello che potrebbe fare una garanzia semplice perché lo esonera dal dover restituire il prodotto oppure gli permette di utilizzarlo fino alla fine scaricando dalle sue spalle il peso del prezzo di acquisto potrà infatti richiederlo indietro quando vuole entro alcuni limiti che comunque è sempre buono stabilire la terza garanzia è quella più potente quella che definiremo qui come garanzia tripla se ti ricordi nel capitolo 26 abbiamo parlato di over delivery ovvero di come sostanzialmente i bonus o regali possano aiutare a sbilanciare la disproporzione cognitiva nei confronti dell'acquirente o di come possano funzionare da strumento immediato di retention e fidelizzazione se utilizzati come sorprese post acquisto ciò che ci interessa ora è il primo caso ovvero quello in cui i bonus sono esplicitati già nell'offerta se con la nostra garanzia noi permettiamo al cliente di tenere oltre che il prodotto base anche i prodotti bonus stiamo utilizzando due volte la leva del bonus in over delivery perché la stiamo analizzando anche come garanzia supplementare una over garanzia insomma ora arriviamo al bello con una semplice ricerca online puoi renderti conto di come l'utilizzo effettivo di una garanzia sia in effetti una pratica che difficilmente sale oltre il 4 5 per cento sono dati molto monitorati quindi non ha senso esplicitare qui un valore che potrebbe essere già stato aggiornato mentre tu leggerai queste righe ma quello che è interessante è il trend mentre scrivo sono su uno dei portali di riferimento online per quanto riguarda proprio il monitoraggio delle statistiche relative alle garanzie e nella schermata in cui viene dato il tasso di reclamo suddiviso per settore il valore più alto è il 2,7 per cento sugli acquisti totali 2,7 per cento non è la media è il picco più alto nei tassi di utilizzo delle garanzie il punto fondamentale da comprendere è che richiedere una garanzia nella testa di una persona implica il dover ammettere a se stesso di aver sbagliato quantomeno silenziosamente nel prendere la decisione di acquisto e a nessuno piace ammettere di aver sbagliato se in più poi aggiungiamo al processo di accettazione del reclamo anche un confronto minimo con un altro essere umano anche nel caso della garanzia no question asked senza ulteriori domande l'acquirente ci penserà due volte prima di prendere in mano il telefono e dire ad una persona ho sbagliato a decidere vorrei indietro i miei soldi e qui arriviamo all'ultimo punto più la cifra da rimborsare è alta più il cliente si sentirà in imbarazzo a fare quella telefonata ci tengo a sottolineare però una cosa questo capitolo si basa sull'utilizzo delle garanzie come ulteriore leva di vendita nello specifico come asset di marketing per l'inversione del rischio dall'acquirente che sborsa i soldi al venditore che si assume tutte le responsabilità con una garanzia completa non è quindi un capitolo che vuole incentivare l'utilizzo della garanzia come strumento di supporto di una truffa le truffe non sono un modo intelligente di fare soldi e anzi statisticamente portano più danni che guadagni tutte le informazioni che leggi in questo libro sono come un coltello un coltello non è né buono né cattivo a priori puoi usarlo per cucinare il chirurgo lo usa per operare e spesso salvare vite l'assassino per uccidere quello che fa la differenza per un mezzo è il fine con cui viene utilizzato capitolo 43 da priorità alla costruzione di asset uno dei consigli principali che bill gates da a chi aspira ad una vita indipendente e realmente libera è be your own boss as early as possible ovvero diventa il capo di te stesso il prima possibile diventare il prima possibile responsabile al 100 per cento della gestione del proprio tempo dovrebbe essere una priorità per tutti perché il nostro tempo è realmente l'unica risorsa che non possiamo reperire sul mercato e vincolare circa un terzo della nostra capacità giornaliera per ottenere uno stipendio che ci permette di pagare le spese non è proprio una grande strategia per costruire la nostra indipendenza come dice spesso alfio bardolla c'è una grande differenza tra lavoro e professione fare una professione significa barattare tempo per soldi lavorare invece vuol dire creare qualcosa per te stesso che una volta realizzato produce denaro la tematica della gestione del tempo e a cascata di tutte le altre risorse ha però anche degli altri impatti pratici all'interno di un business primo fra tutti il criterio con cui assegniamo le priorità nella lista delle cose da fare fatta eccezione per i casi di emergenza ma in realtà questa regola vale anche in queste situazioni dovremmo dare priorità alle task che possono essere messe in leva o per dirla in maniera ancora più brutale dovremmo dare priorità ai lavori su cui ci concentriamo una volta sola ma che produrranno valore per la nostra attività per un periodo ben più ampio possibilmente infinito di tempo questo significa appunto dare la priorità alla costruzione di asset ovvero alla costruzione di tutto ciò che per il tuo business rappresenta un valore e soprattutto un valore che non si disperde istantaneamente facciamo un esempio molti di noi oggi sono concentrati nella produzione dei contenuti l'epoca in cui viviamo ci costringe nel bene o nel male alla produzione costante di contenuti di qualsiasi tipo per rimanere visibili nella marea di contenuti generati ogni secondo sui social e sul web in generale ma non tutti i contenuti sono uguali immaginando un'ipotetica rappresentazione grafica della vita di un contenuto ad un estremo troviamo i contenuti effimeri la cui esistenza è vincolata alle 24 ore di vita dei sistemi su cui vengono distribuiti pensiamo alle stories di facebook instagram e whatsapp per esempio e viceversa all'altro polo troviamo i contenuti che potremmo definire come evergreen o sempre verdi vale a dire quei contenuti che ci sforziamo di produrre una sola volta ma che lavoreranno e saranno utili praticamente per sempre al nostro business chiaramente i contenuti sempre verdi rappresentano un asset ma questo non significa che i contenuti effimeri non abbiano un'utilità per il nostro business e non esistano dei contenuti che si piazzino idealmente fra questi due estremi per esempio contenuti magari non evergreen ma che comunque possono produrre un certo tipo di valore nel tempo nonostante abbiano una speranza di vita ridotta la speranza di vita di un contenuto è un concetto fondamentale che ci aiuta a stabilire i pesi e le misure del nostro sforzo lavorativo che cosa intendo per speranza di vita di un contenuto banalmente la sua vita media una stories instagram ha una speranza di vita di circa 24 ore 12 ore effettive mentre invece un mini documentario su youtube ha una speranza di vita praticamente infinita un buon imprenditore o un buon manager sa che c'è una differenza tra task il cui prodotto ha una speranza di vita minima e task il cui prodotto è duraturo nel tempo proprio per questo tornando all'esempio dei contenuti un buon imprenditore o un buon manager concentrano la maggior parte degli sforzi della propria squadra nella produzione di asset e poi dedicano solo una parte inferiore del tempo nell'estrarre da questi asset ciò che ci serve nell'immediato in questo esempio ho usato due percentuali molto sbilanciate 90 10 ma anche in caso di un classico 80 20 il risultato è sempre lo stesso veniamo ora ad un metodo pratico per classificare ogni task che dovremo svolgere in base al valore prodotto e a quanto questo valore sarà in grado di mantenersi nel tempo prendiamo un foglio e costruiamo un grafico cartesiano sull'asse x inseriamo il valore prodotto dalle nostre task questo andrà da un valore minimo tendente allo 0 ad un valore tendente a più infinito sull'asse y invece andiamo ad inserire il lifespan del risultato prodotto da queste task ovvero per quanto tempo il risultato prodotto di queste task sarà a nostra disposizione è importantissimo sottolineare qui come questa valutazione vada fatta sull'effetto ottenuto con la task non tanto con la task in sé in questo modo otterremo quattro quadranti come quelli illustrati nella figura nella pagina che segue analizziamoli tutti quadrante a il quadrante a è la nostra priorità numero uno sono task in grado di produrre tanto valore e dalla speranza di vita lunga in questo quadrante ricade praticamente tutta la costruzione di asset di primo livello per il nostro business quadrante b nel quadrante b rientrano tutte le task secondarie ovvero quelle di cui occuparsi dopo aver risolto quelle di primaria priorità ovvero quelle del quadrante a sono task che producono risultati di grande valore ma che purtroppo non hanno una speranza di vita molto lunga quadrante c in questo quadrante inseriamo le task che producono risultati di poco valore ma durevoli nel tempo questo quadrante si posiziona dopo il c perché tra la durata nel tempo ed il valore prodotto dobbiamo sempre dare preferenza al valore prodotto attenzione però il valore prodotto deve essere sempre considerato come risultante di un'operazione che tenga in considerazione anche il suo lifespan facciamo un esempio task 1 produce risultati che valutiamo come 5 per una settimana 5 per 7 giorni uguale 35 task 2 produce risultati a cui diamo un valore di 2 per 4 settimane banalmente 2 per 28 giorni uguale 56 è evidente come in questo caso la task 2 debba avere preferenza sulla task 1 perché il valore prodotto mediamente è più basso 2 è minore di 5 ma quello stesso valore in relazione alla sua speranza di vita produce un risultato complessivamente più alto 56 è quasi il doppio di 35 quadrante d in questo quadrante ricadono le task il cui risultato è definibile come di scarso valore e di scarsa durata c'è una sola regola con queste task a meno che tu non debba espletarle per forza in questo caso delegale al ruolo meno qualificato del tuo team non perderci tempo alla luce di questo capitolo ti consiglio vivamente di rileggere i capitoli 8 e 9 ovvero i capitoli sui risultati e sui processi lo sbilanciamento a favore degli output spiegato nel capitolo 8 ed il focus sui processi del capitolo 9 implementati in questa matrix l'ultima figura che hai visto possono produrre risultati letteralmente deflagranti per il tuo business Reggono Reggono Gras вы Reggono Grazie a tutti